carissimi amici e amiche bentornati a questo ciclo di catechesi diciamo formativo dogmatico teologico a tema antropologia cioè il discorso che la teologia fa sull'uomo è un discorso molto bello un discorso molto articolato stiamo cercando di fare un escursus esemplificativo non esaustivo perché capite se fosse esaustivo dovremmo fare un ciclo di catechesi lungo due anni è molto molto tecnico anche però qualcosa certamente forse in qualche momento diventa un po' tecnico per forza di cose perché gli argomenti sono abbastanza particolari la volta scorsa se non ricordo male abbiamo affrontato il tema della antropologia scolastica soprattutto con il pensiero di San Tommaso abbiamo dato un'occhiata anche al pensiero di San Bonaventura che a differenza di San Tommaso come ricorderemo appoggia sposta diciamo così l'asse del cuore diciamo così del problema antropologico dall'intelletto alla volontà immagine emblematica della scuola platonica con l'antropologia esemplarista tutte le creature hanno in sé le vestigia di Dio solo l'uomo ha l'immagine di Dio nella Trinità si trova l'immagine della tantissima scusate nelle potenze spirituali l'intelletto, l'amore e la volontà si trova l'immagine della tantissima Trinità e la somiglianza con Dio si ha attraverso la grazia che ci rende simile a Lui e la cosa più importante che c'è nell'uomo è la volontà e quindi il mezzo più grande per unirsi con Dio è la via dell'amore io ho già accennato la volta scorsa che queste due scuole a mio avviso io ho imparato nel corso della mia vita senza voler essere egeliano e che l'amava dire che il vero è l'intero che nella prospettiva egeliana non si può accettare questa frase qui però una cosa molto importante che ho imparato è che una visione unilaterale quindi schierarsi per un partito partito nel nome stesso del termine ci sono anche partiti teologici non soltanto politici ma partito dice proprio partito cioè è una parte e credo che sia molto saggio prendere il meglio di ciascuna parte e metterle insieme la degenerazione grave l'abbiamo vista credo la volta scorsa del mare finito accennandolo adesso non mi ricordo bene non ho avuto modo di riguardare perché mi è stato un po' di tempo ma il disastro è cominciato con Guglielmo Dockham Guglielmo Dockham ha segnato non solo la fine della scolastica guardate che oggi siamo ancora nei tempi di Guglielmo Dockham Guglielmo Dockham è stato un guaio assoluto perché è stata la fine della armonia tra la fede e la ragione e la fine della fiducia del potere e della ragione in teologia e in filosofia cioè guardate che oggi il grosso problema della gente non è che non c'ha fede Don Leonardo che se qualcuno salterà dalla fede che dici Don Leonardo? no no non è quello è che c'è stata la messa nel dimenticatoio dei cervelli perché molta gente pensa la mano la fede è una cosa differente dalla ragione adesso non voglio citare Giovanni Polo II con la sua Fides e Trazio che già il titolo di quell'enciclica era abbastanza emblematica ma la contrapposizione tra fede e ragione stiamo parlando del mistero dell'uomo quindi è stata una posizione sempre avversata dalla Chiesa la Chiesa non ha mai detto una cosa del genere la fede cieca d'accordo di cui parla per esempio Martin Lutero ma non esiste non esiste la fede cieca Gesù non chiede una fede cieca non lo farebbe mai voi dite lo dimostri ma certo che lo dimostri una volta adesso nelle facoltà teologiche non si fa più c'era una branca della teologia fondamentale che era l'apologetica che non si fa più sapete qual era il compito? era di farti vedere che Gesù Cristo si è presentato come il figlio di Dio va bene che sia il figlio di Dio devi fare un atto di fede per riconoscere come tale va bene ma non è che è un atto di fede cioè perché se io mi alzo la mattina e vado a dire in giro come faceva Sai Baba che era Dio in terra ok cioè Gesù Cristo ha dato una serie di segni che accreditavano quello che lui diceva li ha dati durante la vita e soprattutto al termine della vita e quali sono i segni di credibilità? i miracoli tanto per dirne uno la conoscenza dei cuori che risulta dai Vangeli tanto per dirne un'altra la conoscenza del futuro tanto per dire un'altra ancora certo quindi nei minimi dettagli da dove si vede non canterai il gallo prima che tu mi avrai innegato per tre volte se aprite la somma teologia questa è la conoscenza di quello che in filosofia si chiama un futuro contingente possibile perdonatemi i termini tecnici spiego evento futuro contingente è il contrario di necessario ok contingente possibile quindi vuol dire che è una cosa che alzitutto è contingente perché non è essenziale alla realtà delle cose è possibile perché non è necessario cioè io domani sera a quest'ora lasciate perdere chi conosce il programma immagina che domani sera si è segnalato su Maria di Magdano ma io domani sera a quest'ora potrei fare sa quante cose differenti potrei essere andando a mangiare una pizza potrei stare a vedere un film incontrare un amico stare a fare la catechesi stare a fare il rosario stare in chiesa a fare l'adorazione è del tutto ma se uno mi dice guarda che non canto e poi succede esattamente quello che mi ha detto sapete che la conoscenza dei contingenti possibili la conoscerò tanto di il diavolo no il diavolo sgama per questo che ogni tanto qualcuno cade nelle trame dei maghi ma se uno fa attenzione la sgamata del diavolo non è mai puntuale e precisa al 100% perché il contingente possibile il diavolo non lo conosce a meno che però speriamo che Dio non glielo permetta Dio non faccia che glielo fa che glielo rivela lui se glielo rivela l'altissimo per qualche suo scopo particolare lo conosce tant'è vero che il diavolo come non vorrei andare fuori tema però non sapeva che Gesù Cristo era il figlio di Dio non ne era sicuro leggete San Leone Magno lasciate perdere la passione di Mel Gibson perché non ci crede la redenzione è stata una trappola lui lo sospettava e si rodeva il fegato perché vedeva questo qui però poi veniva veniva mandato perché il nostro signore è bravo a farlo a farlo soggetto però era nascita una vergine ma la madre non è vergine perché c'è un uomo vicino quindi se c'è un uomo è nato dal topo lui non mica lo sapeva che c'era stata la concezione virginale non lo sapeva dice poi ma questo è il figlio di Dio lui lo conosceva il figlio di Dio nella santissima dirità perché si è ribellato la conosceva la gloria del figlio di Dio allora basta leggere Maria da Greta perché si vuole divertire un po' facevano si conciliaboli di Dio però questo tipo ma questo ma non ci si può manca avvicinare che c'è una forza grande questo sicuramente è il figlio però non può essere il figlio di Dio ma vi ricordate la gloria ma uno così umile ma uno così dimesso non è possibile cioè per la testa del diavolo non era concepibile un'umiltà così grande quindi andava in confusione perché se fosse stato sicuro al 100% non l'avrebbe ucciso a Gesù non l'avrebbe ucciso lasciate perdere che adesso gli esorcisti raccontano che il diavolo fa il gradasso e che dicono ah a quel pezzo di carne l'ho ammazzato io che si pavoneggia è la cosa se esistesse il pentimento il diavolo è la cosa di cui si pentirebbe di più per tutta l'eternità perché è soltanto per l'avere ucciso ingiustamente che perde le anime ne perde qualcuna almeno non tutte ma qualcuna sì Guglielmo Doc ma è un disastro un disastro assoluto per esempio la conoscenza umana avente valore universale e oggettivo è lui che l'ha distrutta ma vi ricordate Benedetto XVI ci vuole Benedetto XVI la cosiddetta dittatura del relativismo che pensate che voi che oggi si possa dire in giro che esiste una verità oggettiva provate ad andare a dire a qualcuno che avete visto che c'è stato il generale vannaccio che aveva detto che l'omosessualità è una cosa sbagliata ovvio 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 non lo so se ti mandano carcerato non lo so che leggi stanno ovvio non è ovvio neanche per niente esiste secondo voi una verità oggettiva su cui si possa certo che esiste ma non viene riconosciuta e perché guardate che c'è un asse che parte da Guglielmo Dockham paradossalmente passa per Cartesio ma tu dici ma come Guglielmo Dockham nega l'universalità e l'oggettività della conoscenza e Cartesio è il fondatore del razionalismo sembrano cose in contraddizione ma sono cose perfettamente coerenti perfettamente coerenti perché dire cogito ergo sum scusate sono un po' tecnico questa sera perché allora state attenti la filosofia classica non diceva cogito ergo sum ma diceva sum ergo cogito cioè io posso pensare perché ho l'essere perché Dio ma dire cogito ergo sum vuol dire attenzione sapete che cogito ergo sum si giustifica l'aborto ce l'avete mai pensato perché se tu dici penso dunque sono se uno non pensa non è ma il famoso grumo di cellule mica pensa non c'è ancora l'autocoscienza quindi non è persona guardate che amici cari questo che bisogna studiare un po' adesso non voglio adesso non voglio far però specialmente le persone che devono fare qualche cosa di decente queste cose le devono sapere c'è molta gente che ridacchia e sorride della filosofia una volta i tre seminaristi sfaccendati fanno nulloni si diceva la filosofia è quella scienza con la quale o senza la quale tutto resta sempre uguale ma non è vero manco per niente non è vero neanche per niente non è vero neanche per niente perché la filosofia muove totalmente la cultura dell'umanità totalmente questo ha fatto un macello secondo Guglielmo Dockham la conoscenza ha come oggetto solo le cose particolari io posso conoscere soltanto un aspetto non posso astrarre non posso generalizzare il famoso rasoio di Ockham è la frase che lui amava a ripetere non sunt moltiplicanda ensia siano necessitate non si devono moltiplicare gli enti senza necessità oppure il nominalismo ci avete mai pensato il nominalismo di Guglielmo Dockham allora che cosa diceva la filosofia classica se io chiamo un essere animale cane in quel termine non è che poniamolo diversamente perché il cane si chiama cane come è nato il nome cane tanto così cioè dico facciamo c a n e e lo appiccichiamo a quel quadrupede che c'ha quella forma questo diceva Guglielmo Dockham cioè i nomi sono arbitrari tu potresti chiamare lo chiami cane ma avresti potuto chiamarlo cavallo invertire quindi chiami cane il cavallo e cavallo il cane tanto i nomi sono simboli sono segni arbitrari perché perché il nome non coglie l'essenza della cosa la sostanza della cosa perché perché se tu potessi cogliere la sostanza della cosa potresti astrarre e se tu astrai crei una conoscenza universale cioè io non so adesso sto cercando di farla il più semplice possibile queste sono cose se vi rendete conto della deportata devastatrice di robe di questo genere qui non ne sarebbe esistito Martin Lutero senza Guglielmo Dockham capite attenzione conseguenze di queste cose trasferiamoli trasferiamoli all'antropologia e poi alla teologia allora qual è la facoltà più importante dell'uomo anche lui dice la volontà ma attenzione perché la volontà è solo la volontà che mi fa libero non l'intelletto quindi capite che significa che cosa sta dicendo sta 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 parlando del motto di Alistair Crowley fai quello che vuoi capito cioè la volontà diventa il principio portante dell'uomo essere uomo significa utilizzare la volontà come ti pare sganciata da qualunque vincolo riferimento assiologico quindi di valore o veritativo ma questo è il satanismo allo stato puro è il satanismo allo stato puro e attenzione ecco l'altra l'altra pazzia ma pazzia attenzione amici cari scusate se mi se mi fermo un po' ma per favore abbiate un pochino di grano salis sentite queste cose vi do un indizietto pensiamo agli ultimi tre anni andiamo indietro di tre anni a tutti i livelli cerchiamo di rivederli con questa logica attenzione e come si trasmette questo in Dio allora Dio è assolutamente trascendente quindi noi di Dio non capiamo praticamente niente ed è assolutamente libero attenzione che è trascendente e che è assolutamente libero non è che è vero di più ma in che senso lo dice questo personaggio qui che lui può fare quello che vuole attenzione attenzione in maniera non che noi non ci arriviamo quindi che è assolutamente logica in sé però siccome Dio è trascendente io non ci sto dietro quindi non posso capire tutto ma non perché agisce in maniera arbitraria ma perché la sua intelligenza mi sovrasta le vostre vie non sono le mie vie i miei pensieri non sono i vostri pensieri no lui dice no Dio fa quello che vuole può portare un peccatore in paradiso suoi esempi e un giusto all'inferno eh queste cose Dio non le farà mai non le farà ma siccome cioè dentro questo sistema è inevitabile che si abbia un'idea di Dio di questo genere perché segue torna dentro questo sistema è che è sballato il sistema oh non parliamo poi della grazia che cosa è la grazia secondo Sant'Omaso la grazia santificante quella che tutti abbiamo fino a quando non facciamo un peccato mortale è un habitus cioè una disposizione stabile dell'uomo comunicata da Dio che se tu la custodisci ti rende giusto e ti rende capace di compiere gli atti delle virtù e di resistere a quelle dei vizi ah no secondo un piano doc la grazia non è un habitus ma è un decreto di Dio sapete che il decreto è il provvedimento di autorità per antonomasia quindi è l'esercizio col decreto fin dai tempi del diritto romano e dell'imperatore il decretum era proprio un provvedimento perdonatevi le mie rinveniscenze giuridiche fatto ad hoc in forza dell'imperium dell'imperatore sapete che la chiesa la copiate queste cose perché i vescovi quando devono prendere un provvedimento vincolante cosa fanno? fanno un decreto sempre e quando un vescovo fa un decreto devi tremare perché il decreto è legge nella diocesi ok? allora secondo la grazia è un decreto di Dio cioè la dà chi vuole non modifica le condizioni interiori dell'anima perché non è un habitus addirittura Dio può anche prescinderne per salvare qualcuno dalla grazia la dà chi vuole le classiche frasi messe lì che hanno un fondamento di vero nel senso che Dio non è obbligato a dare la grazia a nessuno questo sia ben chiaro il fatto di volerla dare è una sua scelta motivata dal suo amore e dalla sua misericordia punto ma una volta che decide di darla Dio non la dà così Dio la dà a chi si dispone ad accoglierla Dio la dà a chi l'accoglie Dio la dà a chi si converte non la dà a casaccio spara nel mucchio a quello sì a quello no quando Giovanni Calvino avrebbe detto quella bestemmia che lo sa quanto una casa che Dio predestina gli uomini alcuni al paradiso e altri all'inferno viene da qui viene perché se la volontà di Dio è arbitraria può fare quello che vuole e non deve rendere conto a nessuno che Dio possa fare quello che vuole e non deve rendere conto a nessuno è vero ma non in questo senso che quindi giustifica l'assurdo attribuendolo a Dio Dio non fa le cose assurde capite quanto è importante conoscere queste cose anche per il nostro discernimento di tante situazioni vogliamo vedere come queste cose sono state applicate in tante situazioni che come dice un noto youtuber lo capite da soli o ve lo devo spiegare non è tanto difficile con queste premesse ultime tesi portanti e così abbiamo il prodromo di Martino Lutero per esempio le opere dell'uomo non incidono sulla sua salvezza quindi le fanno le favore poi paradossalmente siccome lui è un volontarista e su questo Martino Lutero un pochino si distacca c'è il cosiddetto pelagianesimo o cammiano sapete che Pelaggio era un eretico l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti che diceva che il peccato originale non ha inficiato la natura umana vulnerandola in maniera irreversibile per cui se non ti viene tolto il peccato originale e non c'è la grazia tu sei morto no diceva che il peccato originale è stato un cattivo esempio la natura dell'uomo è rimasta integra per cui l'importante è che ti vengano dati dei buoni esempi e che tu impari ad essere moralmente attrezzato fai un po' d'ascesi e te ne vai in paradiso Sant'Agostino ha fatto fuoco e fiamme contro Pelaggio Pelaggessimo o cammiano che cosa dice le opere sono inutili per la salvezza però l'uomo senza la grazia pensa un po' può e deve osservare dieci comandamenti peccato che Sant'Omaso d'Aquino diceva che senza la grazia di Dio tu starei proprio tranquillo che i comandamenti li trasgredisci senza nessun dubbio seguendo Sant'Agostino voi sapete com'è la formuletta l'uomo attenzione il giochetto è interessante però seguitelo l'uomo non giustificato quindi l'uomo che non ha la grazia il pagano il peccatore non può non peccare sapete quando una frase è costruita col non può non vuol dire impossibilità assoluta dice ma avete visto quelli che dicono ma io non faccio il mio padre non faccio nessun peccato non fa nessun peccato lo dice il diavolo perché è superbo sapete che il diavolo va a dire in giro ai risorcisti io peccati io non ho nessun peccato sarebbe da dare una risposta in volgare dialetto romanesco ma che chiaramente non non si può dare ma se la meriterebbe una frase del genere no? ok comunque oppure una persona che è completamente un'incosciente perché senza la grazia di Dio non puoi non peccare e non solo non puoi non peccare non è il peccatuccio il peccatone è impossibile poi l'uomo giustificato in il convertito attenzione può non peccare eh hai visto è cambiato qualcosa se vuoi non pecchi quindi l'uomo il peccatore il giustificato e poi c'è glorificato in paradiso non puoi peccare è impossibile peccare cioè mentre il peccatore è impossibile che non pecchi il beato è impossibile che pecchi in mezzo c'è la condizione che viviamo noi che vogliamo fare? possiamo non peccare quindi è possibile che pecchiamo ma se vogliamo con l'aiuto della grazia non si pecca questo mettiamocelo bene in testa quando si dicono quando si fanno anche qui le frasi le classiche frasi ambigue a siamo tutti peccatori certo che siamo tutti peccatori la chiesa mica ci fa dire le bugie nell'atto penitenziale che ho molto peccato in pensieri parole opere omissioni e ti batti non è che ti batti il petto tanto per fare la commedia è vero è vero quello lì il memorabile perdonatemi la sviolinata la messa in vedo sordo ma l'offertura della messa antica ti manda in estasi no pro innumerabilibus peccatis et offensionibus negligencis meis et omnibus circostanti busile sacerdote innumerevoli peccati offese e negligenze mie sono cose vere ma in che senso sapete come diceva perdona in che senso in che senso non è che siamo tutti quanti adulteri pedofili grassatori andiamo a prostitute abortisti drogati pestiamo la gente spudiamo in faccia al prossimo prendiamo a calci i bambini non lo so non in questo senso cioè nel senso che purtroppo per quanto ci stiamo attenti il giusto pecca sette volte al giorno e anche se non me ne rendo conto chissà quanto era combinato pure oggi da stamattina stasera in questo senso ed è per questo che ci si confessa pure tutte le settimane non è che si confessa così proprio tanto per cambiare aria ci mettiamo davanti al Signore gli chiediamo un pochino di luce se gliela chiediamo almeno qualcosa qualcosina ce la fa vedere perché poi ricordiamo quello che dice a Santa Faustina se conoscessi fino in fondo se conoscessi fino in fondo l'abisso della miseria moriresti di dolore ha detto a Santa Faustina non l'ha detto come si chiama a Messina a denaro quello che sembra l'ha detto a Santa Faustina l'ha detto Kowalska che era una vergine non dico immacolata ma insomma morta pure a 33 anni quindi non era una peccatrice ecco in senso forte capiti capito che ho fatto questo gli esiti di tutto quanto questo bel ragionamento il volontarismo quasi assoluto di Dio l'incomprensibilità del suo agire non si può accettare una cosa di questo genere allora certo perché non è così cioè la storia della salvezza certamente che ma noi la studiamo quindi si può capire si capisce un po' quello che ha fatto nostro Signore no? un po' a grandi linee non si comprende perfettamente questo è chiaro ma capirci qualcosa è sì non è che stiamo al buio a giocare a mosca cieca non funziona così e quindi un fideismo parimenti quasi assoluto dell'uomo che deve rinunciare a comprendere bello sembrerebbe bello no? sembrerebbe bello poi cominciamo ad applicare tutte quante le cose che arrivano no? ti arriva l'apparizione di turno però io mi sento che è vera va bene te senti che è vera guardate che succede tu ti senti che è vera poi a un certo punto nell'apparizione appare un'incongruenza guardate ma io mi sento che è vera quindi quell'incongruenza dipende siccome la giro di Dio non si comprende dal fatto che io non comprendo e quindi la lascio perdere c'è un altro punto di vista questa è una presunta apparizione se appare un'incongruenza io ne prendo atto perché l'incongruenza una non basta però prendo atto se l'incongruenza diventano due o diventano tre o diventano quattro che faccio? ma siccome io mi sento che è vera vado avanti lo stesso guardate che questa è la stessa logica per esempio delle sette quando si finisce in una setta è la stessa identica cosa parlate con le persone che sono uscite per esempio dai testi di Giove cioè tu ti vedi davanti agli occhi delle cose incongruenti e dici no 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 ma questo è un posto santo questo qui quindi mi sarò sbagliato oppure non ho capito bene questo è Guglielmo d'Occam questo è fideismo assoluto sapete quante mistiche quante veggenti girano anche intorno a tanti preti quanti ne volete io ho degli amici santi sacerdoti che sono molto ordinariamente diffidenti con queste motivazioni esistono le anime di questo Giove perché te neanche uno vuole fare razionalista dice ma sono cose talmente sono cose rare sono anime generalmente molto nascoste molto riservate molto delicate non stanno non amano stare sui palcoscenici d'accordo quindi prudenza chiaro che se tu ti dici mezza cosa e già dici ah questa ah questa ma magari magari poi qualcuna ha le rivelazioni ad hoc quindi personalizzate per tizio e cazzo ti vanno a dire una cosa bella da parte di nostro signore è vera sicuro non c'è una cosa bella da parte di nostro signore che pazza cioè capiamo però no cioè attenzione a tutte queste robe qui questo è Guglielmo d'Occan questo qui cioè se uno entra in questi in questi dici bello no sembra apparentemente bello se ti dice bene è andata bene è andata io c'avevo un professore bravissimo di filosofia uno dei pochi bravi che veramente bravi posso pure dire no perché le cose belle non so so 25 anni che non lo frequento quindi non vorrei che si fosse impazzito d'accordo ma uno dei più bei corsi che ho fatto di filosofia è stato con Don Gianfranco Basti che veramente a parte che c'era un po' su di scienza che sapeva un sacco di robe e ti faceva capire benissimo alcune cose quando parli di queste cose bello no perché il mondo platonico quindi il mondo dell'amore della volontà del Dio trascendente fa quello che vuole e tu ti devi fidare se tu non dici beh ma ammazza però che bello no sì sicuro che è bello se ti dice bene ma interna l'otto ma se ti dice male tu esci con le ossa rotte se sono soltanto le ossa d'accordo cioè capite come questi cioè capite anche l'importanza di questo ciclo di catechesi no allora a partire questo è l'inizio della fine del pensiero occidentale l'inizio della fine del pensiero occidentale cioè il grande il pensiero occidentale vuol dire la grande speculazione greca i romani sapete che filosofia ci capivano niente i romani se erano buoni a fare erano buoni ingegneri manco manco tanto brai come architetti poca poca roba ma erano meglio i greci buoni ingegneri buoni strateghi militari buoni uomini di potere e buoni giuristi ma con le filosofia ci capivano niente d'accordo se non si è stata Seneca Marco Aurelio qualcuno della media sto a pochissima roba quindi la filosofia ha fatto un po' un jump perché è rifiorita fortemente in occidente proprio con la scolastica quindi con la riscoperta delle fonti preparata anche dal periodo precedente quindi da Vicenna da Verroè dai grandi filosofi ebrei che hanno cominciato a riscoprire queste fonti ma questo è stato proprio l'inizio della fine e il programo della riforma protestante che è la negazione del pensiero la negazione del pensiero ma vi siete mai chiesti ma tutti quanti i problemi che adesso girano e che agitano molte coscienze dentro la chiesa ma sarà un caso che vengono dalle nazioni che sono state la culla del protestantesimo cioè l'irrazionalismo allo stato puro l'irragionevolezza allora c'è un pezzino della croce io poi ogni volta che ripercorro queste cose mi ha veleno perché adesso le vedo le vedo le vedo le vedo purtroppo in atto e molte di queste cose guardate che molto dell'uteranesimo non è cosa di oggi purtroppo è entrato non dentro la chiesa dentro la chiesa non ci entra dentro la chiesa cattolica questa roba non c'entra ma dentro alcuni pensatori purtroppo che si dicono cattolici c'è entrato e non solo pensatori a Lutero penso che tutti sappiate che era un monaco agostiniano certamente è vissuto sotto i due pontificati Alessandro VI e Giulio II non voglio commentare perché quelli comunque erano pontefici però andatevi a documentare di chi fossero proprio quando ha attaccato le famose 95 tesi sulla cattedrale di Wittenberg nasce nel 1483 Monaco vedete agostiniano l'agostinismo ha preso la linea la stessa dei francescani perché Samuel Aventura era agostiniano l'agostinismo segue la linea platonica attenzione di per sé se la mantiene in una forma moderata è una cosa buona attenzione però è più pericolosa della linea tommasiana perché la linea tommasiana ti salva perché ti stimola a far funzionare il cervello di qua c'è il pericolo che la volontà parta come un cavallo e si dimentichi che devi agire sempre in sintonia con il cervello non so se riesco a ed è fondamentale questo qui guardate che ogni volta che noi facciamo delle stupidà il peccato si trova nella volontà la volontà cioè il costitutivo proprio del peccato sapete qual è? è che con un atto di volontà tu li distacchi da ciò che è vero giusto e ragionevole il peccatore non pensa tanto è vero che come fa nostro signore a farci tornare noi stessi ci fa rilettere avete mai detto il vangelo del figlio del prodigo che succede a un certo punto questo qua si trova così si mette a pensare ma guarda come sono ridotto ma a me chi me lo fa sta così con che faccio torno da mio padre non lo so vabbè facciamo così torno e gli dico senti mi metti nell'ultimo posto ma tanto starò meno peggio che così guarda come sono ridotto pensa no riflette il compito di un ministro di Dio il compito di un sacerdote è provocare continue riflessioni perché poi le scelte le devono fare sempre le persone perché la volontà noi non abbiamo il compito di scegliere per gli altri noi abbiamo il compito di facilitare le scelte che ciascuno deve fare fornendogli gli strumenti per farle nel debito modo allora Lutero sapete che lui diceva sempre che a 30 anni ha fatto questa famosa esperienza della torre e l'ho detto anche in questi giorni che si sta leggendo durante la Santa Messa la lettera ai Romani Lutero ha fondato tutto quanto il suo impianto teoretico sulla lettera ai Romani e sulla lettera ai Galati ovviamente su alcuni passaggi strumentalizzati questa esperienza della torre lui prende un versetto del primo capitolo della lettera ai Romani dove dice che nel Vangelo si ripela la giustizia di Dio sentite di fede in fede come sta scritto il giusto di tra mediante la fede questa è stata la grande frase incriminata e in questa esperienza della torre lui dice che sta tutto l'ant'angosciato perché si chiedeva ma io al Signore l'ho perdonato i miei peccati sarò bene le angosce irragionevoli no poi ovviamente questa è anche un'anima un pochino in parte scrupolosa oppure in parte forse comunque si mette un attimo a fa sta roba qui dice a un certo punto mi arriva l'illuminazione sulla vera natura della giustificazione e lui la descriva come una conversione intellettuale e spirituale allora che cosa ho capito giustizia di Dio di fede in fede quindi se deve essere semplicemente creduta non è un'opera nostra allora numero uno la giustificazione è opera tutta ed esclusivamente di Dio l'uomo non c'entra in nessun modo niente come ha fatto come ha fatto Dio a giustificare il peccatore mediante il sacrificio del figlio sulla croce ok che è un atto di liberalità dovuto alla sola misericordia di Dio e semplicemente da accogliere gratuitamente attenzione come opera questo atto attenti eh l'uomo non diventa giusto perché la giustificazione appartiene a Dio solo l'uomo peccatore è e peccatore sempre resterà che cosa deve fare lui deve credere fermamente quindi la fede come atto fiduciale interiore che Dio giustifica l'empio attraverso Cristo crocifisso quindi deve dire al Signore sì Signore io credo fermamente che tu mi giustifichi in che senso nel senso che tu non mi guardi più a me direttamente ma mi guardi attraverso il prisma di tuo figlio crocifisso cioè tra me e te ci si mette davanti Cristo crocifisso quindi io rimango cattivo ma la vista della mia cattiveria ti è oscurata da Cristo crocifisso e quindi a me mi arriva la misericordia ma sempre cattivo rimango però io vi dico e perdonatemi se prendo in prestito in maniera un po' come si dice in maniera un po' temeraria forse una frase del nostro dirmi maestro dico chi può capire capisco questo linguaggio è utilizzato in alcuni ambienti della chiesa cattolica identico non dico altro perché così ma dico chi può capire capisca quindi Lutero dice oh finalmente quando ho capito queste cose ho trovato pace perché ho capito che le penitenze le preghiere i digiuni i sacramenti le indulgenze non servono assolutamente a niente oh il nostro signore ci regala questa cosa che la devi soltanto che godere bello no e questo è il sogno di tutti il libero arbitrio lui ha scritto un'opera che si chiamava il deservo arbitrio il libero arbitrio è un'illusione l'uomo è radicalmente peccatore San Paolo ha detto il Vangelo ha scritto chi commette il peccato è schiavo del peccato la libertà è un'illusione l'uomo pecca appunto e basta è condannato a fare questo e non può fare nient'altro l'unica cosa che può sperare è che Dio lo guardi attraverso lo schermo di Cristo crocifisso e gli usi misericordia capito quindi questa in realtà lui era convinto di aver trovato la pace attenzione alle opere del diavolo sapete come sono le opere del diavolo questo lo spiegano benissimo tu ti metti in un'opera e c'hai quel senso di momentanea apparente pace contentezza è tutta quanta roba superficiale amici cari che dura poco e che però sotto la superficie ti lascia la tempesta ha invece la pace che viene da Dio al contrario perché è compatibile con una situazione di superficie che magari possa essere non proprio sempre tranquilla magari anche a causa di circostanze esterne ma nel fondo come nei mari in tempesta c'è sempre la guida c'è sempre la pace quindi siccome questo era un'anima scrupolosa attenzione all'anima scrupolosa cioè lui era una persona che non si sentiva posto davanti a Dio non si sentiva amato dal Signore per quello che era e quindi stava sempre a tormentarsi ma avrò fatto abbastanza avrò fatto abbastanza penitenza abbastanza cose cioè quasi pensando e questo è un errore grave questo qui perché l'amore che Dio ha per noi prescinde da quello che noi facciamo certo che poi se noi entriamo in una logica d'amore ricambiando offrendo al Signore anche tante cose anche tante preghiere anche tanti sacrifici lui è contento e certamente ce le ricompensa ma questo non deve essere vissuto in una prospettiva psicologicamente malata cioè io non mi sento e quindi devo e più ne faccio e più tanto continuo a non sentirmi tranquillo a posto perché tanto secondo me la Signora a me non lo vede neanche scritta al muro questo c'era uno stato di ansia perpetua e guardate che cosa ci fa il diavolo guardate che i danni che ha fatto questa roba qui sono incalcolabili sono quindi sta antropologia riformata è un disastro perché capi salti la natura dell'uomo è completamente corrotta quindi c'è un'assoluta incapacità di compiere il bene cioè quella che è la condizione del peccatore non giustificato per l'utero è la condizione anche del peccatore giustificato perché la giustificazione non rende l'uomo giusto no non trasforma l'uomo no non lo rende capace di bene no è un'opera divina che semplicemente per la misericordia di Dio rende l'uomo non imputabile delle colpe che commette e che continua a commettere secondo l'utero la concupiscenza capite che cos'è no che è quella tendenza generalmente la concupiscenza è l'inclinazione al male che purtroppo tutti noi romani capitolo 7 e 8 voglio fare il bene non faccio il bene che voglio non faccio il male che non voglio dopo il peccato originale purtroppo noi che siamo stati programmati da Dio virgolette programmati ovviamente per il bene adesso siamo stati riprogrammati dal maledetto per il male cioè ci riesce piuttosto più facile fare il male che fare il bene tant'è vero che l'uomo non giustificato solo quello fa e anche l'uomo giustificato può fare il bene ma non senza fatica non senza superare le prove le tentazioni ora però la Chiesa ha sempre insegnato che la concupiscenza anche la concupiscenza non in senso lato ma in senso stretto concupiscenza in senso stretto capite bene che è quella cosa che determina fibrillazione da un punto di vista proprio erotico sessuale ora il vomite della concupiscenza quindi avvertire questa cosa non è in se stessa un peccato se una persona senza che concorra con il desiderio cercare di capirmi o con gli occhi o con la volontà ad alterare il proprio stato di quiete si ritrova in fibrillazione non ha peccato perché questa cosa adesso ci sta in noi come tendenza questa diventa peccato solo se viene provocata alimentata assecondata o seguita no invece secondo lotero è essa stessa un peccato quindi la concupiscenza sia in senso ampio come inclinazione al male sia in senso stretto quindi come vivezza vivacità degli stimoli sessuali voi sapete che penso che non si scandalizzi nessuno san francesco e san benedetto san francesco due volte ha avuto episodi terribili di tentazione quindi che c'ha avuto la sensualità impazzita io sono un maschietto quindi penso che tutti quanti sappiano cosa c'è dei maschietti se si impazzisce la concupiscenza talmente forte che non riuscevano a a spegnerla neanche distraendo il pensiero neanche sapete che san 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 benedetto san francesco la prima volta si sono buttati dentro i rovi a subbiaco uno e alla porzione con l'altro e si è andato a visitarli al posto dei roveti si stanno adesso i roseti perché nostro signore come ripensa di quell'eroismo a futura memoria li ha trasformati in roseto a san francesco capita pure un'altra volta quando stavo a laverna e siccome a laverna ci stavano le spine però c'era la neve quindi sapete che una delle non so se lo posso dire che scandalizza nessuno uno dei dice sento la concupiscenza che si è impazzita ah c'è un sistema che si spegne subito te ne vai sotto l'acqua gelata si spegne per forza ah se non c'è l'acqua gelata san francesco dice che facciamo adesso era molto vestito san francesco ci aveva perso del sacco addosso si è tolto pure quello e si è rotolato in mezzo la neve così la vada spegnere per forza ok quindi secondo lutero secondo l'impostazione di lutero sia san benedetto che san francesco per il solo fatto di aver sentito questa cosa hanno peccato mortalmente ok seconda cosa secondo grande capisaldo la giustificazione è assolutamente gratuita e consiste nel dichiarare giusto non rendere giusto l'uomo peccatore coprendolo con i meriti di Cristo è evidente che le opere buone eventuali nel processo di giustificazione sono totalmente indifferenti magari ne compare qualcuna vabbè ce la facciamo pure sta però non mi viene a dire che sono opere sante sono semplicemente segni del fatto che forse il Signore ti ha concesso la giustificazione e chiaramente dentro questa dimensione giustizia di Dio di fede in fede il giusto di fede un'importanza straordinaria e capitale della fede però attenzione non la fede come la intendiamo noi a tutti i locali la fede come una forma di conoscenza delle verità che Dio rivela attraverso la loro apprezzione intellettuale e il concorso della volontà che gli fa dare l'assenso anche quando queste cose appaiono in evidenti questa è la fede cattolica no la fede luterana la fede protestante è la fede fiduciale cioè devo credere fermamente che Dio mi ha voluto giustificare in Cristo devo credere fermamente che lui vuole ricoprirmi dei suoi meriti coprirmi non trasformarmi quindi mettermi questa bella coperta e quindi chiaramente dentro questo orizzonte che cosa è la giustizia secondo secondo Lutero sempre sulla base dei suoi travisamenti delle lettere di San Paolo ai Romani e ai Galati ora già dai tempi di Aristotele e poi questo era un caposaldo del diritto romano e lo è anche nella giustizia con virtù cardinale che cos'è la giustizia? la giustizia è il giusto è dare a ciascuno il suo ma secondo Lutero ma che dare a ciascuno il suo la giustizia è la fede in Gesù Cristo ossia la virtù con cui si crede in Gesù Cristo che giustifica l'impio questa è la giustizia rileggo il messaggio della lettere romani incriminato no? che cos'è la giustizia? che cos'è e cos'è la giustizia? romani 1.17 rileggo ops cos'è la traduzione? ho sbagliato la traduzione potrei leggere in inglese però meglio di no perché poi qualcuno non capisce è in questo vangelo che si rivela la giustizia di Dio vedete di fede in fede come sta scritto il giusto quindi il giusto è quello che pratica la giustizia vivrà mediante la fede quindi la giustizia non è nient'altro che la fede in Cristo Gesù ecco questo è quello che è o la giustizia secondo la legge ah quindi il travisamento di tutto il discorso che San Paolo fa sulle opere della legge nella lettera ai Galati no? quando San Paolo parla di quelle cose sta parlando delle opere della legge giudaica le opere secondo il giudaismo compiendo tutti quanti i precetti 613 si erano diventati dati da Dio tu diventi giusto San Paolo dice ma manco per niente tu puoi star nel compiere pure il 613 pure 6130 ma se non vieni battezzato cioè non fai tuoi i meriti di Gesù Cristo attraverso la grazia che ti trasforma tutte le opere che compi a prescindere da questo non ti potranno mai giustificare questo è vero questo qui questo è verissimo travisamento di Lutero ah no no San Paolo parla della legge la legge quindi chiunque vorresse compiere le opere della legge quindi i comandamenti o con le loro forze ah in realtà è un ipocrita è un falso è un mercenario è uno che vive nella condizione della giustizia servile e invece la vera giustizia quella secondo la fede è propria di chi non confidando le proprie forze si prostra a Dio come il pubblicano invocando pietà e oltre a questo non devi fare nient'altro la giustizia di Cristo il vero giusto non noi solo Cristo è giusto ci viene imputata al credente se ci credi e buonanotte a tutte quante le leggi e le opere della legge tanto è vero che cosa avrebbe detto è fatto Lutero pecca fortiter e crede fortiter cioè pecca fortemente bello così no tanto lo è stato davvero che lo sapete tutti quanti che si è sposato con una ex suora dopo averci fatto una montagna di peccati mangiavo come un maiale l'ho scritto lui stesso leggete gli scritti di Lutero io godo nel mangiare come un maiale l'ha scritto lui quindi non lo sarei mai di una cosa ma tanto che problema c'è mi faccio una bella magnata poi davanti al corcifisso dico l'ho fatta grossa ma io credo che tu mi perdoni signore Gesù poi domani le faccio ancora più grosse ma guardate che sacco di gente c'è una vita sta roba qui e guardate che ci sono molti nuterani dalle nostre parti cercate di anche qui di fare un po' di decodificazioni sentite anche certe prediche che fanno anche certe prediche durante qualche funerale a cui vanno tutti in paradiso una volta la salvezza era ritenuta insomma forse un po' troppo insomma che si salvi chi può adesso vanno tutti in paradiso qui c'è sempre qualcuno che si sbaglia quando ci sono due visioni completamente polo nord e polo sud è chiaro che una è sbagliata quale sarà domanda retorica insomma però ognuno di noi potrà cercare la risposta insomma allora andiamo a sintetizzare tempo scaduto tempo scaduto oggi brutta notizia la prossima volta facciamo una tipologia cattolica che esce fuori dal concilio di Trento quindi respiriamo un po' d'abia sana però troppo prima di respirarla dobbiamo vedere gli ammorbamenti gli avverenamenti gli attossicamenti chiamateli come vi pare allora l'antropologia riformata in sintesi ha tre capisanti c'è uno spostamento dell'attenzione dal binomio grazie a carità tipico della scolastica quindi a quello fede giustificazione poi cambia proprio il principio ermeneutico globale cioè la chiave di interpretazione globale dei fatti e degli eventi salvifici allora c'è un ripudio e un rifiuto a prioristico di tutti gli schemi antropologici tutta la televisione dell'uomo costruiti a partire certamente dalla liberazione ma anche con l'ausilio delle categorie filosofiche o cosa dice a Lutero la sola scrittura dobbiamo ritornare agli schemi biblici a suo dire più esistenziali anche qui se si scorgesse qualche consonanza con qualche fenomeno dei nostri giorni forse chissà e poi c'è un'antropologia personalista imperniata sul rapporto tra Dio e il singolo se raggiocano tutto quanto a tu per tu Dio e la persona non c'è più nessun tipo di mediazione tant'è vero che nelle comunità luterane sapete bene che il sacerdosio ministeriale non c'è 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 il predicatore il pastore che è un laico come tutti gli altri che svolge nella comunità il compito di presiedere dice qualcosa questo termine che è entrato anche in altri ambienti non soltanto protestanti e svolge semplicemente una funzione ma fondamentalmente è uno come tutti gli altri tant'è vero che adesso sciocco qualcuno il clergyman adesso perché avete consentito tra i sacerdoti sapete chi se lo sono inventati no? i luterani i protestanti perché adesso la devo dire per forza e così capita anche la differenza con la veste italiana perché il clergyman è semplicemente un segno di riconoscimento cioè tu c'è questo collettino bianco però c'è i pantaloni c'è la camicia e c'è la giacca cioè scusatemi quando io andavo allo studio legale mi mettevo i pantaloni la camicia la giacca e poi anziché il colletto c'evo la gravatta mi tolgo la gravatta mi metto il colletto e faccio il prete capite il senso? che significa? significa che fondamentalmente è uno è uno come gli altri non si distingue perché è una figura sacrale perché ha una come dire connotazione essenzialmente diversa la chiesa insegna che la societazione ministeriale differisce da quello comune non solo per grado cioè non è che io sono sovraordinato gerarchia mentre io sono il parroco tu sei un fedelico mando io e tu ubbidisci non è solo questo per grado ma per essenza io sono una cosa che tu non sei non c'ho nessun merito perché non è che sono questo perché soffio dell'oca bianca perché ho ricevuto questo sacramento capite no? quindi tolte le mediazioni ecclesiali perché il predicatore fondamentalmente ti predica il Vangelo perché ti deve rimettere nel tuo rapporto personale tra Dio e te e quindi sapendo che da parte tua cosa ci può essere? sono superbia concupiscenza peccato e disperazione invece da parte di Dio compassione e misericordia che giustifica il peccatore che tuttavia tale rimane un altro slogan di Lutero e dell'ambiente luterale è il simul justus e peccator che è una contraddizione in termini cioè allo stesso tempo io sono giusto perché mi giustifica l'altissimo ma rimango peccatore perché la mia condizione è spacciata sono irreversibilmente peccatore e ripeto e concludo se qualcuno trovasse qualche analogia in qualche ambiente me lo faccia sapere io sinceramente l'ho trovata però ovviamente mi tengo le considerazioni private per me che non sono ovviamente consone lasciando poi a ciascuno se crede il compito di rifletterci un po' sopra stiamo attenti perché queste cose qui fanno male ci portano lontano dalla verità ci portano lontano da Dio a abbracciare idee di questo genere vabbè preghiere della sera per chi ha seguito la diretta un pochino più intensa e così c'è la disintossicazione però alla prossima puntata ci disintossicheremo con un po' di aria buona derivante dalla reazione cattolica a tutta sto montagna insomma di fango piovuto da questi tossici pensieri io vi benedico alla Santa Vergine vi protegga alla prossima